È un onore per me inviare di questo brevissimo saluto augurale, benaugurante per i lavori della settimana Ciam che si apre a Tirana nell'ambito del trentennale dalla nascita dell'Associazione Patriottica Sciameria. Sono gli auguri che vi provengono da un ex presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE che conosce quindi bene le grandi questioni riguardanti la dignità delle minoranze nazionali che voi rappresentate, che vi proviene da un politico europeo che conosce bene quale sia l'importanza dei diritti umani e quanto essi rappresentano da un punto di vista identitario per il nostro continente, che vi provengono da un politico italiano che conosce le sofferenze che derivano per un popolo dalla privazione di territori nazionali, come è accaduto all'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, che provengono dalla Toscana, quella Toscana che fu anche la terra del generale Enrico Tellini che voi mi avete fatto conoscere per bene e che una grande rilevanza ha avuto nella vostra vicenda storica. Voi non siete soli, avete tanti amici nel mondo ed in Europa e io sono fiero di essere uno di loro. La sciameria appartiene a tutti gli albanesi. Ciao, ciao.